A Teramo la situazione post-sisma si sta aggravando sempre più. In mattinata è avvenuto lo sgombero di due intere palazzine in zona con l'atterrato, esattamente in via Damoli e in via Giovanni XXIII, dove è praticamente esploso il cappotto che riveste i due edifici con la conseguente rottura dei tubi del gas. L'operazione si è presentata particolarmente difficile per la reazione degli abitanti e anche per la presenza di una giovane malata di sclerosi multipla che deve essere immediatamente rialloggiata. Molti cimiteri comunali ancora chiusi, Cartecchio e Teramo è parzialmente fruibile e il sindaco Brucchi, stremato, chiede aiuto a Renzi, alla regione, a tutti. Abbiamo bisogno di personale per le verifiche sul territorio. Ci sono altre città che stanno peggio, ci sono città distrutte. Quindi io di queste città ho grande rispetto. Però noi abbiamo i nostri problemi. Non ce la facciamo a gestire con i nostri tecnici, solo con i nostri tecnici, le centinaia di richieste che arrivano da parte dei cittadini che vogliono che le loro case vengano verificate. E questo è un gatto che si morde la coda, perché il cittadino che non ha la casa verificata non torna a casa. Se il cittadino non torna a casa va ai nostri centri di accoglienza e quindi noi prendiamo queste persone e ospitiamo i centri di accoglienza. Questa è la situazione perché, tra l'altro, senza togliere niente, ma un conto è un paese, una frazione, una cittadina che ha mille abitanti, un conto è un comune, quello di Teramo, che ha 56 mila abitanti. Sindaco, quindi lei ci conferma che in Abruzzo il terremoto è stato a Teramo? Io non dico, per quello che ho potuto vedere e constatare, che te il terramano è il territorio più colpito, perché anche quello più vicino è un discorso oggettivo, è quello più vicino alla zona dove c'è stato l'epicentro, quindi è normale che sia anche quello. Ma non credo che questo sia evidente, si capisce anche dai danni che ognuno di noi ha avuto o di persone che conosce che hanno avuto danni. I danni ci sono, abbiamo un cimitero cittadino che è per una buona percentuale inagibile, ci sono zone che non sono assolutamente visitabili, così come abbiamo tutta una serie di cimiteri frazionali che in questo momento sono chiusi e non so neanche se li riusciremo ad aprire. Oggi rinnoverò nuovamente alla regione, alla protezione civile regionale, e abbiamo bisogno di aiuto. Adesso non è un problema di risorse economiche, personale che va a fare queste verifiche. Rientreremo nel cratere, secondo lei? Ma guarda, io questo è un problema che adesso vedremo se rientreremo nel cratere. È l'ultimo dei problemi, nel senso che si vedrà, perché poi rientrare o non rientrare nel cratere è una fase successiva che determina i tempi della ricostruzione e le risorse. Ora non mi sto occupando di questo, ora mi sto occupando della situazione di emergenza, di verifiche di tutti, di stabili. Noi così impiegheremo settimane, e questo vuol dire che impiegando settimane tanti cittadini non sanno se possono rientrare nelle proprie case o meno.